Stefano De Martino e Antonino Spinalbese sono due uomini che hanno suscitato l'interesse di molte donne, ma solo una è stata fortunata ad averli entrambi nella sua vita, Belen Rodriguez. La showgirl argentina è attualmente legata a Elio Lorenzoni, mentre i due ex, secondo quanto riportato da Key Magazine, sembrano aver stretto un «patto» di amicizia. Stefano, con alcune pause significative, è stato in una relazione con la showgirl dal 2012 fino allo scorso giugno, e insieme hanno avuto un figlio, Santiago. Antonino, d'altra parte, è stato legato a Belen dal 2020 al 2021, ma si sono separati poco dopo la nascita di Luna Marie. Di recente, ha suscitato curiosità il fatto che Spinalbese abbia cominciato a seguire Stefano su Instagram. In effetti, i due sono stati rivali in amore, quando Belen ha concluso la sua relazione con Stefano, ha conosciuto Antonino, e quando Antonino e Belen hanno rotto, lei è tornata con Stefano. La scorsa domenica, i due ex partner di Belen si sono incontrati a casa di Stefano, portando con sé i rispettivi figli, e hanno trascorso tre ore insieme. C'è un motivo molto importante per cui due uomini così diversi possono trascorrere del tempo insieme, il benessere dei loro figli. Santiago e Luna Marie sono legatissimi, e il fatto che Stefano e Antonino li abbiano fatti incontrare per giocare insieme sicuramente li ha resi felici. Ora che Stefano e Antonino sono amici, potranno farlo più spesso. Inoltre, è probabile che abbiano discusso anche degli sviluppi più recenti nella vita dei loro piccoli, come l'arrivo del nuovo compagno di Belen. Entrambi lo hanno visto nelle prime foto della showgirl insieme a Elio Lorenzoni, quando sono andati a casa di lei con Luna Marie. Un patto tra padri per il bene di tutti, cosa ne pensate?